Ciao e benvenuti a Luminol, un canale YouTube in cui parliamo di true crime e scienza. Vorrei che questo piccolo video rimanesse un po' nel canale come una presentazione, quindi per chi passa di qui e vuole sapere che cosa facciamo o chi sono. Quindi, piacere, io sono Giulia e nella vita sono quasi un dentista. Ho concluso da poco i miei esami e sto affrontando il mio ultimo anno di pratica clinica. La cosa che più amo fare nella vita è raccontare storie, e infatti è proprio questo che voglio fare all'interno di questo canale, raccontarvi delle storie vere. Altrettanto le scienze forensi sono un ambito che mi incuriosisce da sempre. Diciamo che quando si pensa ad una carriera nelle scienze forensi, magari uno ha la tendenza a pensare agli agenti di polizia, piuttosto che a chi fa i rilevamenti, o un po' anche a quelle professioni CSI, quindi il medico legale, i tecnici di laboratorio, eccetera. Ebbene, ci sono tante figure professionali che con la loro scienza in realtà si occupano di questo campo, come ad esempio i biologi, i tossicologi e anche gli odontoiatri forensi. Questo rilevamento ovviamente è puramente casuale, no, scherzi a parte. Per ciò che riguarda l'odontoiatria forense, si tratta di un ramo nella quale magari mi piacerebbe specializzarmi in un futuro, non lo so, chissà. Comunque, credo che anche questi aspetti siano molto interessanti, soprattutto per capire meglio le storie di cui stiamo parlando. In ogni video troverete quindi un approfondimento scientifico legato al caso, che riguarderà la medicina legale, l'odontoiatria legale, ma anche la balistica o la tossicologia, insomma, le scienze dell'investigazione in generale. Io spero di farvi scoprire qualcosa di interessante e di certo sarà anche un'occasione per conoscerne di più e di imparare qualcosa di nuovo a mia volta. I video usciranno ogni giovedì alle 17, perché il mio primo video è stato pubblicato di giovedì e credo anche che comunque sia un buongiorno. È in mezzo alla settimana, però è anche sufficientemente vicino al weekend, così chi non ha tempo in settimana riesce a recuperarlo subito. E il compleanno del canale è il 2 di novembre. Bene, io spero di averti un po' incuriosito e ti invito a dare un'occhiata alle storie che trovi sul canale. Magari attiva la campanellina e iscriviti al canale se vuoi aiutarmi a farlo crescere e spero che rimarrai dei nostri. Ciao!